allora accetto con molto piacere premettendo che raga quando voi mi chiedete l'itvipo e piero velu praticamente mi invitati a nozze quello è proprio il mio il mio mentore piero velu quindi piero velu a vita comunque accetto volentieri accetto volentieri la richiesta del mio fratello giuseppe daniele che poi fino a ora c'è capito da c'è chiamma pep o da c'è chiamma daniele con una canzone che è la metamorfosi di questo momento per quanto mi riguarda il mio corpo che cambia dell'itvipo grazie a tutti cos'è cos'è questa sensazione è come un treno che mi passa dentro senza stazione dov'è dov'è il capo è stazione sto viaggiando senza biglietto in una direzione è lei è lei che prende la mia mano e mi accompagni in questo lungo viaggio andiamo lontano ecco cos'è tutto il mio stupore non è facile guardare in faccia la trasformazione è il mio corpo che cambia nella forma e nel colore è in trasformazione è una strana sensazione in un bagno di sudore è il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia e cambia barba cos'è cos'è questa sensazione è come un treno che mi passa dentro senza stazione e dimmi quale è quale è la trasformazione non è facile guardare in faccia nelle limitazioni anche Standort eh vai è il mio corpo che cambia nella forma e nel colore è in trasformazione è una strana sensazione in un bagno di sudore è il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia e cambia e cambia rinvole E cambia, e cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Quindi non siamo al Festival di Sanremo, o quantomeno al Festival Bar. Quindi accontentatevi di quello che avete, e forza, il mio corpo che cambia, cantate insieme a me, vai, su con la vita, non mollate, siamo i numeri uno. Piano piano, piano piano, date tempo al tempo, accontenterò a tutti.